Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, questo è un video in realtà a richiesta cioè nel senso che una di voi mi ha scritto perché non fai un video del genere e io lo sto facendo proprio in questo momento mi è stato chiesto di fare un video in cui le donne devo avere degli esempi di donne che si sono difese diciamo dagli uomini purtroppo ho fatto delle ricerche però non ho trovato un granché tranne una donna americana, mi sembra che è riuscita a difendersi chiaramente qua non parliamo che lei si è difesa con calci, pugni e altre cose però ho usato un metodo molto più intelligente anche perché sono contraria alle violenze quindi secondo me questa ragazza ha fatto bene quello che a fare quello che ha fatto ecco praticamente che cosa succedeva? da due giorni circa il fidanzato la torturava cioè lei conviveva con questo fidanzato aveva anche un cane e la torturava la picchiava proprio di brutto e tutto quanto lei però è stata molto furba che cosa ha fatto? ha convinto il suo uomo se uomo si può chiamare a portare il cane dal veterinario voi direte ma cosa c'entra tutto questo? perché praticamente appena ce l'ha convinto una volta che erano dal veterinario il suo compagno a tenerle un attimo il cane lei ha scritto un biglietto l'ha consegnato a delle signore che lavoravano in quella clinica dicendo che il fidanzato che la torturava da due giorni che aveva una pistola quindi che non si doveva far accorgere di chiamare la polizia le signore che hanno capito cosa hanno fatto hanno chiamato la polizia la polizia è arrivata e chiaramente hanno arrestato questa specie di uomo e lei poi vabbè scoppiata in lacrime è comprensibile dato che dato il suo vissuto perché pure io al posto suo cioè perché è triste pensare che l'uomo che ami che casomai vuoi anche sposare possa arrivare a farti del male perché quello non è amore e quindi io la capisco pure però questo è un caso di una donna che si è saputa difendere benissimo anche senza usare la violenza perché è chiaro lui aveva la pistola lei tutt'al più che cosa poteva fare poteva tirargli uno schiaffo però lui aveva comunque la pistola era armato quindi alla fine ha fatto la cosa secondo me più giusta e più intelligente che potesse fare e poi è stata secondo me anche molto coraggiosa perché perché se qualcosa andava storto nel suo piano questa ragazza rischiava pure di perdere la vita quindi secondo me questo è diciamo come esempio da seguire però io spero con tutto il cuore che non ci siano più atti di violenza perché è triste sentire queste ragazze che dicono mio marito diceva che mi amava però poi alla fine ha tentato di uccidermi perché se uno tende a ammazzarti non è amore cioè nel senso che bisogna avere rispetto l'uno dell'altro e quindi ragazzi vi saluto per me è un onore fare anche questi video che non sono di mia iniziativa ma siete voi a chiedermi perché non fai questo video perché non fai quest'altro video quindi piano piano vorrei provare ad accontentarvi tutti e fare diciamo il video che voi mi direte di fare presto ragazzi